Abbiamo iniziato bene, adesso arriva Capodorlando, una squadra giovane ma secondo me di grande qualità come ha fatto vedere per tutta la partita contro Milano sfiorando anche la vittoria e a tratti giocando un'ottima palacanestro, quindi una squadra di qualità e lo ha fatto anche senza Diner perché Diner è uscito dopo due minuti e quaranta, quindi il fatto che ci possa essere o che non ci possa essere non cambia molto, una squadra comunque con tanti giovani di talento, al cui interno poi ci sono giocatori anche esperti su tutti i Niscevic, una squadra molto atletica, una partita difficile come ormai, mi sembra già avendo visto questa prima giornata saranno tutte partite come avevamo detto difficili perché le squadre si sono tutte rinforzate, anche quelle che vengono considerate sulla carta meno forti, quindi è una partita importante per lo più è anche l'esordio casalingo, quindi insomma ci teniamo a far bene Secondo me sarà una partita molto più fisica, ancora più fisica, una partita perché loro hanno grande atletismo in tutti i giocatori, mi aspetto anche una partita abbastanza tattica su alcuni aspetti però sono una squadra, anche vedendoli in precampionato, che gioca molto a viso aperto quindi mi aspetto una partita sicuramente dura, sicuramente fisica e spigolosa, questo sì la partita sicuramente è un'esercito la partita sicuramente è un'esercito